overview della unit 7 andiamo sempre più nella pratica allora prima di tutto ipotizzeremo che la nostra batteria guida diventi la batteria definitiva ok il nostro batterista il nostro amico batterista non ha tempo di venire e quindi cosa faremo ottimizzeremo l'esecuzione della batteria registrata che ho suonato io ti ho fatto vedere come l'ho eseguita la faremo diventare quella definitiva e la esporteremo su tracce separate questo ci diventerà un punto di partenza per usare i plug-in io ho chiamato così on the road ok quindi vuol dire che ogni volta che acquisiremo del nuovo audio immediatamente lo processeremo con dei plug-in e ogni volta che applicheremo dei plug-in saranno plug-in che ti ho già spiegato teoricamente come funzionano e li vedremo messi in pratica quindi faremo pulizia con le q sulla batteria dopodiché avrai tutte le tracce separate della batteria da scaricare per poter fare le stesse tipi di esercitazioni ecco su questa batteria lavoreremo anche sul gate sul compressore cioè vedremo come pulire alcune tracce per esempio ricordati sempre non 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 guarderemo all'aspetto estetico cioè del fatto se vada fatto non vada fatto sarà si può fare così poi sarai tu con la tua esperienza con la tua sensibilità artistica decidere quando il genere preveda su quel suono di utilizzare un plug-in oppure no però vedremo come utilizzare il gate per esempio per accorciare i suoni piuttosto che per togliere dei rientri tipo nel rullante quando colpisci la cassa la retina vibra vedremo come poterla togliere quindi utilizzeremo il compressore in modo diverso non solo per limitare l'escursione dinamica ma anche per dare punch ok per dare un pochino più attacco alla cassa un pochino di attacco a rullante quello che viene chiamato snap cioè quando la compressione lascia un tempo di attacco tale che invece che comprimere la dinamica abbassarlo gli lascia l'attacco intatto e gli dà più botta appunto quello che viene chiamata snap quindi questo essendo tante tracce la batteria e dovremmo usare tanti di questi plug-in per capire come funzionare questa sarà tutta questa unit ok quindi non perdiamo tempo e buon lavoro ciao